il pianoforte è sempre stato il mio miglior amico fin da quando ero piccolo il vincitore della 79esima edizione del concorso nazionale pianistico prego Venezia è Giacomo Minecari Giacomo Menegardi bellunese, pianista, 23 anni vincitore del premio Venezia 2023 Giacomo tu hai partecipato ad altri concorsi ne hai vinti in Italia e all'estero che cosa significa partecipare e vincere al Venezia? Allora, veramente sono rimasto incredulo quando mi hanno chiamato sul palco per consegnarmi il primo premio ed è stata un'emozione incredibile e partecipare al premio Venezia significa veramente coronare un sogno e ripagare tutti gli sforzi e i sacrifici che ho fatto in questi anni anche al conservatorio ho studiato col maestro Massimiliano Ferrati dal 2016 al conservatorio di Castelfranco è stato veramente un periodo di ricerca e di continuo approfondimento di tutti i brani che poi ho portato anche al premio Venezia e poi anche gli anni prima ho studiato con la mia insegnante Katia Bellusa a Belluno dal 2006 fino al 2015 e quindi veramente ringrazio i miei insegnanti per tutto il lavoro che abbiamo fatto e perché mi hanno cresciuto nel migliore dei modi per essere arrivati fino a qui a questo traguardo che sognavo fin da quando ero piccolo veramente allora Giacomo partecipare al Venezia non è uno scherzo perché ci sono diversi step è un concorso riservato ai giovani che si sono appena diplomati i diplomati l'anno prima se non sbaglio quanti eravate a concorrere al Venezia? allora al concorso eravamo più di 50 pianisti diplomati da tutta Italia da tutti i conservatori con il massimo dei voti e poi successivamente ci siamo presentati comunque alle sale a colline del Teatro alla Fenice in cui abbiamo svolto la prima prova di 12 minuti quindi una prova secca veramente in cui bisogna centrare al massimo i propri sforzi, la propria concentrazione in 12 minuti molto corta come prova e siamo passati successivamente in 12 concorrenti per la seconda prova con il pubblico sempre alle sale a colline del Teatro con il pubblico? con il pubblico la seconda prova la prima prova invece è stata fatta a porte chiuse solo con la giuria e successivamente dopo la seconda prova si passava in 5 semifinalisti che poi si sarebbero esibiti al Teatro Grande alla Fenice e da lì giochi si fanno più duri perché c'è il pubblico del teatro alla Fenice che è veramente grandissimo e a vedere il teatro sold out anche per le semifinali è stato veramente incredibile e da lì poi vengono selezionati due finalisti che si sarebbero esibiti per la finalissima e tu ti sei trovato a competere con un ragazzo che ha studiato in Italia ma viene dall'estero no? viene dall'estero sì esatto un caro amico è Jacob O'Miller e ci siamo incontrati già ad un altro concorso quest'anno che è stato il premio Brunelli siamo entrati entrambi nella finalissima e ci siamo esibiti in due concerti per pianoforte orchestra con la filarmonia veneta al teatro olimpico e in quel caso la spuntò Jacob caspita però è bello che alla fine la gara sia sempre tra voi due insomma sì quest'anno è stato è stato diciamo si può dire in musica uno scontro ma è un po' brutto da dire perché comunque nella musica non c'è competizione ma c'è solo la gioia di condividere con gli altri pianisti i sacrifici e gli sforzi che abbiamo fatto al concorso e quindi veramente c'è solo gioia di condividere la musica con gli altri ecco Giacomo tu hai accennato al maestro Ferrati che ti ha seguito nel percorso tuo al conservatorio nel triennio che hai fatto e adesso vai avanti al conservatorio immagino perché arriverai alla magistrale no? alla magistrale e poi accennavi a Katia Bellussa allora per noi bellunesi c'è l'orgoglio di saperti vincitore possiamo dirlo insomma no? ma è anche bello sapere che appunto tu fino a per molti anni hai studiato qui hai studiato in una scuola privata come è l'Accademia Rossini appunto dove insegna Katia Belluss e quindi voglio dire anche da Belluno si può arrivare fino a dove sei arrivato tu insomma vero? certo certo riguardando indietro negli anni capisco anche quanti passi si possono fare partendo proprio da zero da non avere nulla perché appunto i miei genitori comunque sono molto appassionati di musica classica ma non hanno mai studiato musica quindi è stata veramente comunque una fortuna per me trovare un insegnante come la Katia che mi ha cresciuto per dieci anni come una seconda madre praticamente e mi ha trasmesso tutto l'amore per la musica classica e anche il fatto di diciamo di lavorare con serietà ma senza mai bruciare le tappe senza mai diciamo ingigantire le cose e fare passi troppo grandi e quindi questa cosa mi ha reso anche mi ha dato un approccio alla musica anche abbastanza umile nel senso di lavoro costante di ogni giorno e senza mai montarmi troppo la testa c'è questa cosa incredibile nello studio della musica che non succede nelle altre materie che si crea un rapporto strettissimo uno a uno con il tuo insegnante e Katia Bellus è anche stata brava e capace a un certo punto di dire adesso devo metterlo in mano a qualche maestro che lo porti ancora più su vero? Sì è stata così? Certamente nel 2015 abbiamo iniziato a guardarci un po' intorno diciamo assieme e abbiamo trovato un'opportunità che vi sedeva nel maestro Filippo Gamba che abbiamo incontrato a una masterclass fatta a Portoguaro forse era già nel 2014 se non sbaglio e quindi questo incontro con il maestro Filippo Gamba è stato molto importante perché ci ha indirizzati poi verso delle scelte e grazie a lui anche ho conosciuto il maestro Ferrati poi nel 2016 in conservatorio a Castelfranco Quando ti sei seduto qui poco fa subito le dita ti sono scappate sui quadri che hai portato nella tua finalissima per il premio Venezia non è stato anche un po' rischioso forse Giacomo portare un brano così noto allora diciamo io questo inverno mi ero un po' intestardito perché avevo studiato gli studi di Rachmaninoff che avevo inizialmente pensato di inserire per la finalissima del premio Venezia poi mi sono accorto che non ero ancora maturo per poterli gestire in una finale in un concorso magari suonare in un concerto sì perché mi suoni per quello specifico concerto però fare una serie di studi in una finale di un concorso che viene da tre prove prima molto dure anche il fisico e la stanchezza si fanno sentire e quindi tra maggio tra aprile e maggio ma li hai messi su in così poco tempo sì in un mese li ho studiati li ho imparati a memoria li ho portati a mio maestro a lezione facendogli un'esecuzione e da lì abbiamo subito capito che sarebbe stato il mio brano per la finale del premio Venezia caspita e l'abbiamo lavorato tutta l'estate e l'abbiamo portato a un buonissimo livello e chiaramente ci sarà ancora da lavorare tantissimo però è stato un brano che è veramente stato amore a prima vista con i quadri ma ascolta Giacomo il tuo maestro Ferrati li aveva portati in concerto proprio qui a Belluno poco tempo fa perché mi ricordo che era appena scoppiata la guerra la Russia aveva appena invaso l'Ucraina e lui proprio ci raccontava degli aneddoti su Kiev sulle campane su quel suono come è stato confrontarsi e trovare come dire una tua misura nell'approccio a questi brani nel confronto con un maestro che è uno tra i più bravi esecutori di quei brani infatti allora quando avevo ascoltato a Belluno la sua esecuzione ero veramente rimasto impressionato per il suono la potenza ma una potenza calorosa non prepotente nei confronti della musica mai e quindi questo suono comunque sempre profondo caldo e mai mai sopra una certa soglia e veramente sono rimasto colpito dalla cura nei dettagli con cui ha eseguito questo capolavoro di Mossorsky e quindi sicuramente è stata la mia fonte di ispirazione più grande per poi scegliere di portare questo brano e però si avrà rimesso del tuo immagino allora dove hai lavorato su cose le prime volte che mi facevo esecuzione chiaramente in un brano del genere quando sei giovane ti viene da spaccare proprio il mondo e con questa massa cordale così così grande così gigantesca ti viene anche da assumere troppo forte con delle dinamiche troppo e invece bisogna guardare anche la polifonia la cura delle voci e questa cosa veramente me l'ha trasmessa il maestro ed è stato veramente bellissimo il lavoro di artigianato che abbiamo fatto su questo brano di artigianato di artigianato di artigianato di artigianato bravo Tu prima hai detto pianoforte significa arrivare a questi livelli, significa dedicare molto tempo, tu l'hai fatto, ti sei dedicato al pianoforte come tutti quelli che lo studiano, mentre ti sei portato a casa un diploma di scuola superiore, immagino il grande impegno, qui si scivola nel romanticismo, però per te che cos'è quello strumento che è lì alle spalle? Il pianoforte è sempre stato il mio miglior amico fin da quando ero piccolo, infatti ho il ricordo di un video di quando avevo un anno e mezzo dei miei genitori che mi esero su un giradischi in vinile la suonata con la marcia alla turca di Mozart e io seguivo la musica e ci ballavo anche sopra e veramente il pianoforte è sempre stato anche nei primi anni di vita proprio un qualcosa di normale per me, perché anche per molti bambini la musica classica attualmente magari, anche se non la suonano, non la ascoltano, invece per me è sempre stata una cosa normale ascoltare la musica classica quando ero piccolo, grazie ai miei genitori. Poi dai sei anni è stata veramente a vero prima vista quando ho iniziato a suonare con Katia all'Accademia Rossini e quindi sì, mi ha veramente accompagnato per tutta la vita il pianoforte ed è sempre stato diciamo l'amico che mi ha sostenuto di più anche nei momenti di difficoltà, perché quando ero in difficoltà la prima cosa che mi veniva in mente era di andare al pianoforte e suonare qualcosa. Giacomo, tu ho letto in un'intervista che hai rilasciato nei giorni scorsi, beh ovviamente pensi alla carriera anche di concertista perché è uno che vince premi e così, poi tra l'altro verrai anche a Belluno a suonare proprio in relazione al premio che hai vinto, però sottolineavi il tuo desiderio di insegnare e questa cosa mi incuriosisce, mi piace, mi sorprende anche perché molti pensano studio musica così divento famoso, tu famoso sei destinato ad esserlo, lo sai già, però hai in mente di trasmettere, spiegaci un po'. Certo, la mia idea è sempre stata quella di comunque trasmettere quello che gli insegnanti a loro volta hanno trasmesso a me, i miei insegnanti e tramandare di generazione in generazione è veramente importante, la scuola pianistica a cui sono stato legato per tutti questi anni e sono veramente determinato nei prossimi anni di poter insegnare e trasmettere a mia volta alle giovani generazioni questa scuola pianistica e tutte le idee musicali che mi hanno tramandato i miei insegnanti. Ed è veramente un obiettivo centrale della mia vita e spero comunque di accostarla anche alla parte invece quella più artistica e dei concerti, che sicuramente è uno degli obiettivi primari. Tu hai alla fine pochi anni di più di quelli che adesso cominciano a muovere un po' i primi passi, magari di quelli che fanno le medie, che fanno le medie musicali, hai voglia di lanciare un incoraggiamento ai ragazzi che mostrano passione per la musica? Sì, sicuramente il consiglio che posso dare è che ci sono moltissimi concerti di musica classica comunque anche in Italia e anche ci sono moltissimi sconti per gli studenti. Andare ad ascoltare un concerto dal vivo veramente può cambiare la vita anche di un ragazzo e può veramente dare moltissimo e dire magari un giorno ci sarò io su quel palco, magari sarò io quel giorno lì a dare le emozioni che in quel momento quell'artista ha trasmesso a me sul palco e quindi questa cosa può veramente dare lo stimolo giusto per poter andare a casa e avere delle idee fresche e mettersi col proprio strumento a creare qualcosa di veramente importante. Ascolta Giacomo, tornando al Venezia, significa che adesso, oltre alla soddisfazione di essere risultato al primo posto, insomma, adesso legato al Venezia c'è una tournée, dovrai esibirti in giro a cominciare proprio dalla Fenice perché lì non sarà uno scherzo, sarai accompagnato dall'orchestra della Fenice. Raccontaci un po' di queste tappe legate a Venezia. Sì, allora, il premio prevede appunto più di 20 concerti per importantissime istituzioni in Italia, ho visto anche che ci sarà un concerto a Bruxelles e sicuramente i concerti premio proprio specifici del Teatro alla Fenice sono tra i più importanti di questa tournée di un anno di concerti. Uno sarà in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno in cui terrò un recital da solo al Teatro alla Fenice e poi successivamente nella stagione del 2024-2025, un concerto da solista con appunto l'orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia. E dicevamo che c'è anche convenzionato insomma con questo premio il Circolo Culturale Bellunese per cui sarai anche qui, sarai anche al Comunale. Sì, è previsto appunto nei concerti premio del Premio Venezia un concerto per il Circolo Culturale Bellunese e sarà veramente un... anche quello una tappa importante perché suonare per la prima volta in un concerto ufficiale per il Circolo penso sia veramente un'emozione unica da bellunese e quindi suonare davanti al pubblico di casa sarà veramente emozionante. E io direi che affolleremo sicuramente come bellunesi il Comunale però per chi non è mai stato a Venezia a provare l'emozione di sedersi sui palchi della Fenice, insomma, anche venire giù a Venezia a sentirti non sarebbe una brutta cosa. Alla fine è un'ora da belluno, insomma, si può fare. Sì, sì, però comunque sono rimasto veramente soddisfatto di vedere veramente tantissimi giovani appassionati di musica venire al Teatro della Fenice a seguire tutte le fasi finali del concorso e poi magari vederli venire anche dietro le pinte magari a farmi i complimenti. Cioè sono rimasto veramente felicissimo ed è stata veramente una soddisfazione incredibile vedere anche un pubblico giovane presente in Teatro. In questi anni eri bambino, adolescente, poi sei diventato adulto. I tuoi affetti, i tuoi genitori, i tuoi affetti ti hanno sostenuto in questo percorso? Certo, mi hanno sostenuto in ogni, veramente ogni secondo della mia vita e senza di loro veramente non avrei potuto realizzare tutto ciò e tutte le cose che ho in mente anche per il futuro sicuramente saranno fondamentali. Sono i miei primi sostenitori e veramente ricordo anni in cui quando ho iniziato a fare i concorsi all'età di 11 anni in cui mi portavano, mi facevano da taxisti e quindi mi hanno seguito veramente in ogni parte in cui sono, in ogni paese in cui sono andato personale per Easy B&Me e sono veramente fiero dei miei genitori e di tutto quello che hanno fatto per me.